Musica 18.30, buon sabato pomeriggio dal TG2000. In apertura la cronaca con quanto avvenuto questa mattina nel Foggiano. Un carabiniere è stato ucciso da un uomo che è fermato per un controllo asparato. A brucia pelo il killer è stato catturato. Tutti i dettagli con Barbara Masulli. Il cello fa anche ricopre l'auto e lascia appena intravedere la scritta Carabinieri. Qui dentro, nella gazzella dove trascorreva gran parte del suo tempo, il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, 46 anni, è stato raggiunto da un colpo di pistola che si è rivelato letale. Con lui in macchina c'era un altro militare di 23 anni, ferito al braccio. Siamo a Cagnano Varano, un paesino di 7.000 abitanti del Gargano. I carabinieri, intervenuti nella zona centrale della cittadina in seguito a una chiamata per una lite familiare, hanno fermato un uomo, 67 anni, pregiudicato Giuseppe Papantuono, il quale ha aperto il fuoco contro di loro con una calibro 9 e la sparatoria è finita in tragedia. Papantuono adesso in carcere. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica esatta per capire i motivi che hanno spinto Papantuono a sparare. Secondo fonti investigative, il killer solo pochi giorni fa avrebbe minacciato i militari dell'arma dopo essere stato sottoposto a una perquisizione per droga. Ve la farò pagare, avrebbe detto al termine di un controllo. Questi sono gesti che sono inaccettabili in un paese democratico. Nessuno si può permettere di andare contro lo Stato in questo modo, di reagire in un modo vile, oltre che violento, ma vile. Siamo veramente affranti da questo grosso lutto che colpisce un nostro militare, un nostro bravissimo maresciallo. Una vita umana vale il mondo intero. Con queste parole l'arma ricorda di Gennaro Celibe, non lascia figli, ma tutti noi ne siamo orfani. Si legge su Facebook. In realtà Celibe lo sarebbe stato ancora per poco Vincenzo, visto che racconta a chi lo conosce. Aveva una compagna e stava organizzando le nozze. Sono le persone bravi che fanno quella finale, con le cattive no. Faceva il suo lavoro, faceva. Era una brava persona era. Non abbiamo parole purtroppo. Ci dispiace. Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico episodio di Cagnano Varano. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella per la morte del maresciallo maggiore di Gennaro. Ai familiari del militare caduto, scrive il Presidente, esprimo la commossa partecipazione al loro cordoglio. Mattarella oggi ha visitato il Reone Sanità di Napoli. Grazie a voi per quello che fate in un quartiere difficile, ha detto a chi lo applaudiva. Sentiamo Clara Iatosti. È un caldo abbraccio quello che dà il benvenuto al Presidente Mattarella. Ai piedi della collina di Capodimonte, periferia al centro di Napoli, il Reone Sanità si stringe al Capo dello Stato. Sono io che ringrazio voi. Quello che state facendo, che avete fatto e che state facendo qui in questo vostro splendido rione è di grande importanza. Oggi il quartiere è fiero di mostrare progetti, iniziative e associazioni impegnate per un cambiamento concreto. Il Presidente si ferma davanti alla targa che ricorda Jenny Cesarano, il 17enne ucciso per errore durante un ride della Camorra e sottolinea i problemi di sicurezza della città. Non si possono fare creatore di gravità negli omicidi, ma quando viene in presenza di un bambino l'atrocità è ancora maggiore. Mattarella aveva poco prima ammirato la mostra di Caravaggio allestita nel Museo di Capodimonte. Caldeggiata dal Presidente della Camera, il napoletano Fico, la visita alla città si conclude con parole di speranza e assieme di certezza per il futuro. Del sostegno vicendevole, della solidarietà è un'indicazione preziosa per cui è importante per tutto il nostro paese. Grazie per quello che fate e auguri. La questione libica adesso diventa sempre più violenta. La battaglia tra le forze fedeli al governo di Sarraj e quelle del generale Haftar che nelle ultime ore sono entrate a sud di Tripoli. Italia pronta ad affrontare la crisi senza intervenire militarmente, dice il governo. Sentiamo Leonardo Possati. Che la principale posta in gioco in Libia siano le istanazioni petrolifere, il controllo della compagnia di Stato Noc e della Banca Centrale che gestisce la liquidità prodotta dalla vendita di greggio e gas è un'evidenza. Senza produzione, senza le entrate che da esse provengono, il paese sprofonderebbe nel baratro ma soprattutto il prezzo internazionale del petrolio rischierebbe di salire alle stelle generando così una crisi energetica mondiale. Ma ad oggi la situazione ancora sotto controllo lo è perché l'avanzata del generale Khalifa Haftar iniziata a Jufra il 4 aprile scorso è passata dal sud, dalla Fezzan e in parte dal centro della Libia puntando direttamente contro la Tripolitania e Tripoli e tralasciando i grandi giacimenti a Occidente vicino al confine con la Tunisia ma soprattutto perché malgrado il sostegno dell'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia Saudita, della Federazione Russa e della Francia Haftar non riesce a sfondare. Oggi nella battaglia della Zizia a sud di Tripoli le forze di Khalifa Haftar hanno aperto il fronte a sud di Tripoli ma sono ancora 50 chilometri dalla capitale mentre sul fronte sud ovest sono state respinte a Suani Ben Adem 25 chilometri a sud di Tripoli a dimostrazione che il fronte è frastagliato e la situazione è molto incerta. E intanto in città esplosa la rabbia contro i miliziani provenienti dalla Cirenaica migliaia di persone hanno gremito la centralissima piazza dei martiri per denunciare l'operazione sostenuta da Parigi mentre centinaia di persone cercano rifugio nella vicina Tunisia ed è salito da almeno 100 il numero dei morti tra i quali 28 bambini. Silvia Romano è forse ancora viva. La cooperante rapita il 20 novembre scorso in Kenya non avrebbe superato il confine con la Somalia e quanto emerso durante l'incontro tra gli investigatori kenyoti e i carabinieri del Ross a Nairobi dove sono stati finalmente condivisi gli atti raccolti finora. Tra le persone arrestate in questi mesi ci sarebbero anche due uomini che avrebbero accettato di collaborare. Secondo la loro versione la ragazza sarebbe stata ceduta ad una nuova banda di criminali e si troverebbe ancora in Kenya. E' quasi finita invece l'odissea della nave Alan Kurdi e dei 64 migranti a bordo da Malta saranno poi ridistribuiti tra alcuni paesi europei. Nessuno arriverà a Roma e in Italia. Caterina Dall'Olio. Germania, Francia, Portogale e Lussemburgo accoglieranno i 64 migranti dell'Alan Kurdi in arriva a Malta. La prima notizia l'ha data il premier maltese Giuseppe Muscat in un tweet conferma che l'isola del Mediterraneo non ne prenderà nessuno. La nave non potrà entrare in porto dunque non ci sarà nessuna indagine e non sarà sequestrata. Verranno tutti trasbordati su un moto vedete a Malta e poi trasferiti nei diversi paesi europei. I naufragi nel Mediterraneo e nell'Egeo intanto continuano. L'ultimo in ordine di tempo è quello a largo di Samos con un bilancio di tre persone annegate. Due erano ragazzini. Cercavano di raggiungere il campo profughi dell'isola greca. Questo qui, nato per accogliere 700 persone, è arrivato a ospitarne più di 4.000. Qui si fa la fila per tutto, dice questa ragazza siriana, per il bagno, per lavare i vestiti, per vedere i medici. Per mangiare qualcosa a colazione si aspetta in genere tre ore. La vicinanza dell'isola alla Turchia agevola le speranze di afghani e siriani, ma anche di persone provenienti dal Nord Africa che sognano un avvenire migliore. Poi, se tutto va bene, arrivano qui e la loro realtà diventa questa. Andiamo in Vaticano dove oggi il Papa ha ricevuto in udienza i giovani del Liceo Visconti di Roma i telefonini come droga, uno degli argomenti affrontati dal Pontefice, il servizio di Francesco Durante, che ha raccolto le reazioni dei ragazzi dopo l'udienza. Sentiamo. Una comunità scolastica che unisce all'istruzione e alla formazione globale del cittadino e del cristiano è quella del Liceo Classico Visconti di Roma, che continua la storia educativa del Collegio Romano istituito da Sant'Ignazio di Loyola. La scuola è un bene di tutti, spiega Francesco, e deve educare all'inclusione, al rispetto delle diversità. Il dialogo fra le diverse culture, le diverse persone, arricchiscono un Paese. Il Pontefice invita poi gli studenti a curare la propria interiorità, facendo spazio al silenzio e liberandosi dalle dipendenze, come quella del telefonino. È tanto bello comunicarsi fra noi, ma state attenti che c'è il pericolo che questa droga, quando il telefonino è droga, il pericolo è di ridurre la comunicazione in semplici contatti. E nelle relazioni, avverte Francesco, non accontentatevi della mediocrità, amate con un cuore allargato che va oltre gli ostacoli, per progettare un mondo più giusto e più bello, anche lottando contro il bullismo. Che sia la pace, senza aggressione a qualsiasi, senza bullismo. Con grande capacità di toccare il cuore, ha detto le cose giuste ai ragazzi, e cioè di non temere e di coltivare l'amore, quello vero, quello che lega le persone. Ci ha proposto un nuovo modello di vita, un modello anche di educazione, conseguentemente. Appunto, un giovane che sia aperto alla società, che agisca nella società, ma che sia soprattutto conscio di sé. Mi ha colpito la sua semplicità, il suo modo diretto di volerci coinvolgere, di voler coinvolgere sotto noi giovani nel mondo della Chiesa, che sembra sempre più distante. E incontrando i volontari dell'Associazione Italiana per la donazione degli organi, sempre oggi Papa Francesco ha sottolineato come la donazione rappresenti un atto di fraternità universale. Sentiamolo. La donazione degli organi risponde ad una necessità sociale, perché, nonostante lo sviluppo di molte cure mediche, il fabbisogno di organi rimane ancora grande. Tuttavia, il significato della donazione per il donatore, per il ricevente e per la società non si esaurisce nella sua utilità, trattandosi di esperienze profondamente umane e cariche di amore e di altruismo. La donazione significa guardare e andare oltre se stessi, oltre bisogni individuali e aprirsi con generosità verso un bene più ampio. La cronaca adesso. Un velliero carico di droga è stato sequestrato oggi dalla Guardia di Finanza a largo delle coste siciliane. Nella stiva dell'imbarcazione di 12 metri, i militari hanno trovato oltre 6 tonnellate di hashish. Arrestati i tre membri dell'equipaggio, tutti spagnoli. L'operazione ha coinvolto i servizi di intelligence di Italia, Spagna e Francia e ha permesso di sgominare una banda dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Da Torino invece il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha parlato della crisi all'Italia, è competitiva, ha detto, ed è fondamentale che lo Stato resti nella compagnia. Sentiamo Federico Plotti. Nubi all'orizzonte della nuova l'Italia, il cui futuro decollo rischia di essere ancora rimandato. A meno di 20 giorni dallo scadere della proroga concessa a Ferrovie dello Stato, manca ancora il nome dei partners disposti a prendersi in carico il 40% dell'ex compagnia di bandiera. In corsa in questo momento sembra rimassa solo l'americana Delta Airlines, che in queste ore ha fatto sapere di aver incassato la disponibilità di China Eastern e sua partecipata al 9% ad esaminare il dossier all'Italia. Ma a riprova di una situazione che evidentemente non volge verso il meglio è la volontà del Premier Giuseppe Conte di convocare la prossima settimana un vertice allargato al Ministero dello Sviluppo Economico con Ferrovie dello Stato, i sindacati e i commissari straordinari dell'ex compagnia di bandiera. Io credo che stia andando tutto per il meglio e non mi stupisce ma mi gratifica il fatto che per Alitalia sia come brand, sia come compagnia ci sia un grande interesse a livello mondiale da parte di player importantissimi come Delta, che probabilmente è uno se non il migliore al mondo. Le numerose manifestazioni di interesse arrivate per ora in maniera informale dimostrano che Alitalia sia una compagnia competitiva, ha detto il Vice Premier Di Maio e lo Stato italiano deve essere presente all'interno degli asset della nuova compagnia che si sta formando. È un'indagine destinata ad allargarsi quella sulla sanità Umbra dopo gli arresti per un concorso sospetto. Invieremo una task force del Ministero in Umbria per accertare la sicurezza delle cure negli ospedali della regione e in quello di Perugia. Sono le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo al termine dell'unità di crisi convocata oggi pomeriggio al di Castero. Da parte del segretario del PD Nicola Zingaretti invece nessun ostacolo dice all'azione della giustizia. Parliamo adesso di fisco perché da lunedì saranno disponibili online i 7.30 precompilati precompilati per la dichiarazione di quest'anno. Tutte le informazioni da sapere con Silvio Vitelli. Ancora 48 ore e poi sarà possibile visualizzare il proprio 7.30 precompilato. Oltre ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate troveremo quelli inviati da studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università e soprattutto dai datori di lavoro. Ma quest'anno sarà ancora più completa. Troveremo infatti anche quelle spese effettuate su parti condominali che danno diritto al bonus ecologico e le somme versate per assicurazioni casa contro le calamità. Altra novità, la possibilità di avvalersi di una compilazione semplificata per modificare i dati in maniera guidata, ad esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile o modificare gli importi delle spese sostenute. 960 milioni di dati, quelli negli archivi informatici dell'Agenzia, 35 milioni più dello scosso anno, la stragrande maggioranza, quasi l'80%, sono relativi alle spese sanitarie. Al secondo posto ci sono quelle assicurative, ma si fermano ad un decimo del totale. 16 milioni i dati relativi a bonifici per ristrutturazioni individuali, 6 milioni quelle condominali. Per accedere alla propria dichiarazione, come sempre, saranno necessari nome utente e password del servizio Speed, Fisco Online, IMS o Carta Nazionale dei Servizi. L'invio della dichiarazione modificata o l'accettazione di quella proposta sarà possibile a partire dal 2 maggio e, se avrà tempo, fino al 23 luglio. Allerta dell'AIFA su alcuni antibiotici. Le molecole contenute in alcuni farmaci, si legge nella nota, provocherebbero reazioni avverse non segnalate e a rischio invalidità. Con Marco Bergamaschi andiamo a capire di quali antibiotici si tratta. Allerta dell'Agenzia del Farmaco su alcuni antibiotici di uso comune. L'ente ha infatti diffuso importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti fluorochinoloni e chinoloni. Con questi farmaci, fa sapere l'AIFA i medici, ecco l'elenco specifico, sono state segnalate le azioni avverse invalidanti di lunga durata e potenzialmente permanenti, principalmente a carico del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso. I medicinali contenenti 4 molecole verranno ritirati dal commercio. Si raccomanda di non prescrivere queste medicine per trattare alcune categorie di infezioni, che ne chiamo, a meno che altri antibiotici comunemente raccomandati in questi casi siano ritenuti inappropriati, a pazienti che in passato abbiano manifestato reazioni avverse gravi ad un farmaco chinolonico, fluorochinolonico. Inoltre si richiede di prescrivere queste medicine con particolare prudenza ad anziani, pazienti con compromissione renale e sottoposti a trapianto d'organo e a quelli trattati contemporaneamente con corticosteroidi. Infine l'AIFA invita ad informare i pazienti di interrompere il trattamento ai primi segni di reazione avversa grave e di consultare il medico per consigli. Una notizia adesso arrivata in redazione. L'Italia ha bisogno di una riforma del sistema fiscale, soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del cento medio. Sono le parole del ministro dell'economia Giovanni Tria, che ha spiegato il senso della flat tax e del reddito di cittadinanza da Washington per la sessione primaverile del Fondo Monetario Internazionale. Certo non bisogna perdere di vista la stabilità finanziaria, ha detto che bisogna trovare un bilanciamento. Vediamo quale sarà la risposta economica di queste misure. Teniamo tutto sotto stretto. Monitoraggio ha concluso. Adesso noi cambiamo argomento e parliamo del mercato della solidarietà, dove si vendono i pacchi postali mai recapitati e mai reclamati. E' l'ultima iniziativa messa in campo da Poste Italiane e dalla Caritas di Roma. E ce ne parla Fabio Bolzetta. Che cosa hai acquistato oggi? Ho acquistato delle stampe, delle crescitre per monitorare il mio tempo. Rigenerare valore dai pacchi anonimi mai ritirati né reclamati, abbandonati e destinati dopo un'attesa massima di 12 mesi al macero. Poste Italiane con Caritas di Roma ha aperto oggi per il progetto Valori ritrovati, il mercatino della solidarietà. Il ricavato della vendita a prezzi agevolati andrà a sostenere l'inclusione lavorativa di adulti in difficoltà. Due i primi contratti avviati, visto il successo dell'iniziativa. Noi non facciamo altro che lievitare con un po' di umanità questi oggetti, valorizzarli finanziariamente, per cui anziché chiedere alle persone un aiuto finanziario, offriamo anche qualcosa. Gli oggetti che vedete qui, la quasi totalità, sono appunto i contenuti di questi pacchi, che prima andavano in discarica, venivano smaltiti, quindi con costi e con un impatto negativo sull'ambiente. Nel 2018 sono stati 44.000 ai colli senza proprietario, né ritirati né reclamati, dei due terzi si è risalito al legittimo proprietario, delle istante 17.000, eccone una parte, tra cui un passeggino per il cane, sacche da golf e vaschette per setacciare l'oro. Io ho trovato un vinile a cui tenevo molto e una spazzola, praticamente nuova, e la guida Gambero Rosso 2018. Una analisi sulla nostra società, con estrema facilità mandiamo qualsiasi cosa al macero. Ecco, noi come Caritas reputiamo che al macero non si mandano così facilmente, non si devono mandare così facilmente negli oggetti, nelle persone, ma vanno rivalorizzate. Il cinema, giornata di chiusura oggi della ventesima edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, assegnato il riconoscimento alla memoria di Mario Verdone. Carlo Verdone e sua sorella Silvia hanno premiato il film La terra dell'abbastanza, di Damiano e Fabio D'Innocenzo, ambientato nella periferia romana. E proprio di periferia abbandonata e della difficoltà di Roma, Carlo Verdone ha parlato con il nostro Fabio Falzone. E allora sentiamolo insieme. Come la vedi Roma tu in questo momento? Perché insomma, come un'enorme periferia. Mi fece una domanda, se lei fosse sindaco, cosa farebbe come prima cosa? Io dissi, partirei dal problema delle periferie, più che il centro che ha i suoi problemi, partirei dalle periferie. Sono nel degrado, sono mal collegate, non ci sono regole, non c'è legge, non c'è niente. Bisogna trattarle con un certo rispetto, se no gli abitanti non ti rispettano più loro. Li devi rispettare come? Dandogli i servizi, facendo vedere che stai facendo un parco giochi per i bambini, una struttura per gli anziani, le strade migliori, gli autobus che arrivano e che non prendono fuoco. Sicuramente Carlo avrai seguito la cosa di Torre Maura, quello che è successo, questi fatti di cronaca tremendi. C'è un tale esaurimento nervoso che se la prendono anche con i Rom, ai quali, io non so contro le discriminazioni di qualità, ecco non mi piacciono, però le cose andrebbero sistemate con una certa razionalità, quindi è un momento molto molto particolare, un momento non bello, però ci vorrebbe qualche mente illuminata che si fa venire delle idee e faccia delle cose concrete, positive, ma soprattutto con rapidità. Ed è stato un confronto schietto quello avvenuto oggi tra alcuni studenti delle scuole campane e i 12 scrittori candidati al premio strega. È successo a Casaldi di Principe dove sono risuonate parole come legalità, riscatto e speranza. C'era per noi Luigi Ferraiolo, vediamo. Sono ormai via dall'Italia da 12 anni, quindi per me arrivare in una realtà così, conoscere i ragazzi è veramente, forse è una delle cose che veramente dà senso a questo mestiere. Qua a Casaldi Principe in particolare è stata un'esperienza, già nel mio immaginario prima di venirci, importantissima. Non avrei mai pensato di trovare un pubblico così entusiasta. 12 scrittori, il meglio della letteratura italiana, i 12 candidati del premio strega 2019, tutti insieme a Casaldi Principe per confrontarsi con i giovani. L'Italia che non gira la testa dall'altra parte è anche questa. I migliori intellettuali, coloro che creano le storie moderne del nostro paese, che vengono a sporcarsi le mani nella città una volta di Gomorra, per raccontare che molto è cambiato. Speriamo di aver seminato intanto il seme della lettura, che sappiamo essere infestante. Speriamo di aver creato qui dei nuovi lettori e di tornare a incontrarli in futuro. L'incontro si è tenuto questa mattina nel teatro della legalità di Casaldi Principe, costruito su un bene confiscato alla Camorra, nell'ambito del ciclo di incontri transit scrittori di passaggio, partito ottobre scorso per animare la prima biblioteca di Casale. Una chiamata alle arti per gli intellettuali italiani promossa dal premio Buone Notizie e raccolta dal Corriere della Sera e dai migliori scrittori del nostro paese, oltre a tanti personaggi positivi e ovviamente dal premio strega. L'ho vissuto un po' come una sorta di gratificazione per tutti i lavori che è stato svolto in questa nostra città negli ultimi dieci anni, quindici anni, ma non dico non dall'amministrazione, ma da un'intera comunità che ha fatto un percorso avanti nel processo di riscatto straordinario. Dovremmo rimanere qui molto di più, secondo me. Io se potessi cancellare gli altri incontri magari ne farei due giorni qua, cinque giorni qua. Fino a quando ci saranno loro ad ascoltarci e ad ascoltarsi la possibilità per andare avanti e per riprendersi c'è. E anche nonna Lisella vuole parlare ai giovani. Andiamo adesso in Germania, dove una centenaria si candida ad occupare la poltrona di sindaco della sua città. Ce ne parla Nicola Ferrante. Per ora bussa alla porta del municipio, ma dal mese prossimo potrebbe varcarla da consigliere comunale. Inarrestabile nonna Lisella. A cento anni, candidata in una lista civica per le amministrative della sua cittadina, dal nome un po' difficile, Kirke in Bolanden, 30 chilometri da Francoforte e 8 mila abitanti nella Renan. Sono voluta entrare in politica per i giovani. Vede, non si tratta solo di questa storia della piscina. È una delle cose buone che in questa città i giovani avevano ed è stata chiusa. Adesso i ragazzi non hanno un posto dove andare per trascorrere il tempo in modo sano. Sfoglia con orgoglio l'album delle foto quando vinceva i campionati di nuoto. Ex insegnante di educazione fisica ha preso a cuore la causa della piscina comunale chiusa da 10 anni. Ecco quel che resta della piscina. Era un paradiso per noi ragazzi. È stato un errore chiuderla e far crescere solo le erbace. Le comunali si svolgeranno con le europee domenica 26 maggio. Nonna Lisella però si sente già avvincitrice e siede felice su quell'antico scranno di pietra collocato in paese nel 1921. Lei c'era già. E ora andiamo invece in Sudan. Teatro di un golpe che ha cambiato dopo decenni l'assetto del paese. Un fatto che ha colpito i media arabi che lo hanno ampiamente trattato, come ci racconta Laura Silvia Battaglia, nel nostro couscous di questa sera. L'informazione invece torna alle 20.30. Grazie per averci seguito.